sotto ad un vulcano e questo aeroporto che vale un miliardo diventa soltanto un rudele perché non serve a niente, bisognava forse pensare ad altro. Allora tutte queste cose hanno fatto sì che una scuola di pensiero dica tutto purché ci leviamo a Gen. Quindi anche con difficoltà, con situazioni difficili però ci siamo liberati di Ager e infatti se questo emendamento che è stato approvato, inserito nella finanziaria, verrà approvato, ci sarà al più presto un commissario, si libera di Ager e questa storia finisce. Un commissario per Catania naturalmente e un commissario per Ragusa, Siracusa, Trapani. L'altra scuola di pensiero dice sarà meglio lì saremo tutti uguali perché più o meno Caltanissetta, Trapani, Ragusa e Siracusa siamo gli stessi, agrigento, siamo gli stessi di grandezza e quindi a quel punto conteremo tutti allo stesso modo. Secondo me non sarà così, sarà difficile riuscire ad avere più spazio di quanto in verità a poco a poco si era riusciti ad avere con Catania perché Ager è chiaro che doveva per forza far buon viso a cattiva sorte secondo loro e dare qualcosa a Ragusa perché Ragusa è quella che ci ha messo i soldi, perché Ragusa ha fatto transitare nella cassa della Camera di Commercio gigante almeno 18-20 milioni di euro che si era il fondo pensione, quindi più la quota dell'aeroporto. Quindi probabilmente Ager aveva capito che c'era una grande vitalità nella provincia di Ragusa quindi aveva fatto la fiera agricola, aveva partecipato al ciocomodica, aveva fatto un po' di iniziative riguardanti la provincia. Non so se riusciremo ad avere lo stesso interesse su cinque Camere di Commercio uguali. Questo è un problema serio, quindi le due scuole di pensiero che comunque coincidevano in una cosa soprattutto liberarsi di Ager, dovremmo vedere nel futuro dove ci porteranno. L'unica cosa certa è che abbiamo perso, come ho detto ieri, ancora un'altra governance. Dice ma c'è sempre, sì, ma ora vi rendete conto cosa vuol dire arrivare fino a Trapale? Dice però non vi preoccupate perché faranno al più presto la nuova Camera di Commercio, la 61esima. Mi sembra molto difficile. Invece parliamo del Natale, ma non ve lo dico come con la festa, con le luci, magari ieri quelle di Marina di Ragusa. No, ve lo dico perché il Presidente Draghi oggi è intervenuto parlando del Natale. E dice possiamo guardare a Natale e alle feste con una relativa tranquillità, ma ci sono stati 134 mila morti che naturalmente non sono bruscolini. Quello che è accaduto, voi lo sapete, addirittura ci sono stati i Novax che hanno dato l'indirizzo di Draghi per poter andare a protestare davanti alla casa del Presidente. Una cosa un po' strana, poi voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole. Lo Stato ha preso delle scelte, chi non vuole può anche a sterezza andare a lavorare. E come fai? Io voglio fare il tassista ma non ho la patente. Come fai a fare il tassista senza la patente? E queste cose sono state ribadite oggi dal Presidente Draghi che parlando del Natale ha voluto a tutti i costi ribadire la questione del vaccinarsi. L'ultima, l'avete sentita, di quella infermiera del Nord, non mi ricordo, che ha insistito nel dire io non mi vaccino, sto così bene, noi ci incontriamo, ci baciamo e non è mai successo niente, purtroppo è morta di Covid. Questa è una cosa che la gente deve capire. Allora, sentiamo cosa dice il Presidente Draghi un minuto e mezzo, non ti più, sul vaccino, sulla necessità di vaccinarsi. Vediamo. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo al più presto e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile. Come dimostra un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità, i non vaccinati hanno un rischio di morire undici volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose e quasi diciassette volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose. Vaccinarsi è essenziale per proteggere noi stessi, i nostri cari, la nostra comunità. Ed è essenziale per continuare a tenere aperta l'economia, le scuole, i luoghi della socialità, come siamo riusciti a fare fino ad ora. L'insorgenza della variante Omicron dimostra ancora una volta l'importanza di frenare il contagio nel mondo per limitare il rischio di pericolose mutazioni. Non saremo davvero protetti finché i vaccini non avranno raggiunto tutti. Abbiamo la variante Omicron che ha una capacità di diffusione nettamente superiore ad altri varianti. Allora noi abbiamo una situazione, almeno fino ad oggi, una situazione relativamente favorevole. Perché da noi i casi di variante Omicron sono meno dello 0,2%. In altri paesi europei, per esempio la Danimarca, è molto diffusa. E poi anche negli altri paesi europei ora è molto diffusa. Nel Regno Unito è diffusissima. Per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito. Quindi un tampone. Non credo che ci sia molto da riflettere su questo. Questa è Teleiplea. Vini Olindo. Da più di 30 anni a Ragusa soddisfa la clientela più esigente. Oltre mille etichette di vini rigorosamente siciliani. Le migliori grappa italiane e le bontanze prestigiose italiane ed estere. Per Natale, pensa al tuo regalo. Con le eleganti confezioni personalizzate da poter spedire in tutta Italia e anche oltre. E una vasta scelta di prodotti tipici di alta qualità della nostra isola. Inoltre, Vini Olindo seleziona i migliori vini sfusi siciliani e nazionali. Venite a trovarci. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete. A Ragusa è gratis. Vi aspettiamo in via di Vittorio, 116 a Ragusa. Telefono 0932 62 33 11. Volete diventicarvi di tutto? Volete trascorrere una serata all'insegna della risata? Addio pandemia, addio vaccinazione, lockdown, TPCM? Una serata solo per voi! A non pensare a mio marito, a soggiorno, a muti, figli e tutto quello che c'è nella nostra vita? A Natale, poi, se vieni a Teatro Iliar, 18 e 19 dicembre, per prenotazione, area Tossi Viaggi, via Risorgimento 4. Ciao! Vi aspetto in tanti, tantissime! Oh, vi postate che sono tanti, eh! Sbricatevi! A Natale, poi! Tanti auguri dal comune di Ragusa! Ci aspetta un super Natale da festeggiare insieme con gli appuntamenti inseriti nel programma del Natale Barocco. Leggi il programma e scegli la manifestazione che ti interessa. Da Ragusa a Ibla, da Marina di Ragusa a Donna Fugata, tanti eventi per ritrovare finalmente l'atmosfera d'amore che si respira in occasione delle feste di Natale e di fine anno. L'appello al vaccinarsi, alla vaccinazione è ribadito, ripetuto e noi continuiamo a farlo anche perché ora c'è Natale. Io dico, una cosa è stare insieme fra tutti quelli che sono stati vaccinati, c'è il rischio, come avete sentito, cosa ha detto Draghi, il non vaccinato rischia non so quante volte in più, ma si può pensare di passare una serata tranquilla con persone che non sono vaccinate? Io mi preoccuperei molto, quindi questa storia del vaccino io insisto e ribadisco, per favore vaccinatevi. E a proposito di vaccinazione dobbiamo dire che da domani inizia, c'è la possibilità di vaccinare anche i più piccoli, da 5 anni in su. In tutti gli hub sono stati arrestiti dei posti, dei locali che hanno degli arredi che appunto piacciono ai bambini, che servono un po' a rendere più allegra l'atmosfera, perché i bambini questa cosa potrebbero anche prenderla con una certa preoccupazione. Però sapete, ai miei tempi, quando mio padre mi portò per mano, mi portò all'ospedale, ci devi prenderti questa zolletta di zucchero, c'era la zolletta di zucchero, oppure, ed era una cosa che faceva molto male, quando ci fecero il vaccino i pusteda, vi ricordate? Guardate che ci sono, siamo rimasti segnati a vita, quelli che hanno il segnale, non so, mi ricordo che cos'era, che tipo di vaccino era, forse era il baiolo o qualcosa del genere, ma quelli lasciavano il segno. E infatti c'è tantissima gente, tutti quelli che hanno la mia età, insomma, hanno il segnale di riconoscimento sulla spalla e poi a un certo punto, quando si pensava che fosse meno visibile, lo facevano quasi sulla natica. Però non pensavano, soprattutto alle ragazze, perché non si vedeva, no? Quindi si pensava che le ragazze andassero più a braccia scoperte che a gambe scoperte. Oggi è cambiato tutto, quindi poi nessuna ragazza si vorrebbe fare il vaccino sulla gamba. Quindi da domani inizia quest'altra sfida, perché avete visto che il 40% dei contagiati sono bambini, che poi magari, voglio dire, non la prendono così male la malattia, ma i numeri sono quelli. Quindi siccome l'aumento c'è, anche se da noi sentirete in provincia, c'è un piccolissimo calo, ma non è significativo. Quindi su questa storia io credo di potervi dire ancora, vaccinatevi, andate negli hub. Meno di un'ora non si può perdere, ci sono quelli che dicono, ah io volevo andare lì e stare un'ora mi dà fastidio. Certo, meno di un'ora, di un'ora e mezzo non si può perdere. E poi l'altra cosa che non capisco è perché, per esempio, prima lo potevano fare le farmacie, ora non lo possono fare più, prima lo facevano i medici di famiglia e non lo fanno più. Questa cosa la dovremmo capire. Parliamo di Draghi, ma per modo di dire perché il sindaco di Ragusa oggi ha mandato una letterina. è una lettera aperta e sembra un po', io ho fatto la battuta, la letterina del bimbo che scrive a Babbo Natale e dice sarò bravissimo, perché non se l'abbia male il sindaco, non è una sfottenza. Ma siccome ha scritto tutto quello che bisognerebbe fare in vista del PNRR, di questo piano nazionale di resilienza, che poi è così difficile, insomma, vabbè, sono quei fondi, quei 21 miliardi di euro che dovrebbero essere distribuiti nelle città, anzi 28 miliardi che andranno in tutti i comuni, in tutte le città, escluse le 14 città metropolitane che hanno un conto a parte. Allora, il governo ha garantito un supporto ai comuni di mille esperti che dovranno avere il compito di spiegare le procedure e i meccanismi che sono previsti e quindi è stata prevista anche l'assunzione rapida di personale a tempo determinato per rafforzare le capacità progettuali ed operative dei comuni. È chiaro che senza queste risorse umane ed organizzative il rischio è di perdere questa opportunità. Quindi cosa dice il sindaco in questa lettera aperta? Dice abbiamo tantissime possibilità, abbiamo davvero questi 21 miliardi diviso le grandi città, sono veramente soldi. Ma come voi sapete i soldi dell'Europa non sono atti e capi di adilli, ci sto dando sticendo milioni di euro. Sono soldi che devono essere impiegati solo su progetti che si basano, guardate ve lo dico perché il sindaco ci ha anche fatto una cortesia perché ci ha spiegato su che cosa si può intervenire. Allora il piano si articola in sei missioni. Transizione digitale, e questo è importantissimo, ormai se non andiamo a guardare tutto in digitale, ma anche dell'Ibea che è in digitale, sarà ancora di più in digitale. Cultura e turismo, che pensate assorbirà il 21% delle risorse. Ma anche su questa cosa, poi parleremo delle opportunità perse, il 21%, la transizione ecologica, il 31%. La transizione ecologica è una specie di chimera, perché sarebbe il passaggio dall'uso dei combustibili solidi a quelli che si possono, c'è tipo vento, acqua, invece del petrolio o il carbone, ma lì sarà ancora difficile. Infrastrutture per la mobilità sostenibile, quindi anche questa e qua c'è il 13%, istruzione e ricerca il 16%, inclusione e coesione l'11% e poi la salute l'8% di questi 28 miliardi. Quindi noi per poter accedere a questi fondi dovremo progettare e quindi cantierare e realizzare progetti in questi settori. È chiaro che ci sono comuni che non hanno manco l'ingegnere Capo, per dirti, perché non hanno i soldi per pagarlo. Allora, se tu non hai un'organizzazione tale da poter mettere in campo tecnici dal punto di vista scientifico, dal punto di vista di ingegneri, come pensate di andare avanti? Quindi il sindaco dice io sarò bravo, noi come città faremo tutto, già qualcosa l'abbiamo, ma se non ci date una mano non possiamo pensare di andare avanti. Quindi è un po' come non mettere le mani avanti, perché Ragusa, grazie a Dio, gliela insegna a tutti la cosa. Le classifiche, io dico che spesso sono farlocche, ci pongono all'84esimo posto in Italia. Però vi dico che ci sono certe cose che effettivamente ci portano all'ultima posizione, ma non credo che sia quello il motivo per cui noi dobbiamo essere all'84esima posizione, perché non abbiamo il trasporto pubblico. Ma è anche vero, la città orograficamente è combinata in un certo modo, salite, discese, divise in quattro, c'è quattro quartiere, uno a San Giacomo, uno a Marina di Ragusa. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive, ma è vero che si potrebbe migliorare, quindi investire nei trasporti alternativi sarebbe un'ottima cosa. Quindi l'intervento del sindaco è molto apprezzabile, lo potete leggere sul rete Iblea per intero, l'abbiamo riportato, è chiaro che ci vuole davvero un aiuto di tutti, ci sono dei bandi, si possono presentare progetti, si può chiedere di farsi sentire, perché dobbiamo trovare le cose che si possono fare e che servono per questi sei grandi argomenti dalla cultura. Va bene, allora passiamo ad un incontro che c'è stato al comune di Ragusa ieri, la seconda parte, e questa volta c'è l'assessore Giuffrida che parla dell'intervento che verrà fatto a Palazzo della Cancelleria. Vediamo. Comunichiamo che abbiamo ottenuto l'ennesimo finanziamento per recuperare un altro immobile, perché il nostro principio è quello che i vuoti a Ragusa devono essere recuperati. Quindi quando è stato pubblicato questo bando immediatamente ci venne l'idea di andare a individuare uno spazio che in questo momento è abbandonato e per il quale già nel 2004, se non ricordo male, c'è la data, e già nel 2014 era già stato realizzato questo progetto esecutivo per cui l'opera potrebbe essere immediatamente realizzata e quindi i lavori potrebbero immediatamente essere iniziati. Palazzo della Cancelleria, mi riallaccio un po' a quello che ha detto l'assessore Arezzo, diventerà, come vedremo nelle panimetrie, diventerà un posto dove è possibile, oltre a individuare degli spazi di co-working, ma anche di ospitare eventi e avere delle sale espositive che per lunga durata può essere mantenuta un'esposizione, quindi quegli eventi che hanno per forza di cosa necessità di avere dei tempi un po' più lunghi. Ricordo che il Palazzo della Cancelleria, o chiamato Palazzo Nicastro, è un palazzo che risale prima del terremoto, ho degli appunti, si parla già del 1400, i primi indizi che portano a una ipotetica realizzazione e allora non fu Nicastro, ma fu una famiglia arestia nobile di Ragusa Ibra che realizzò questo fabbricato, naturalmente nelle dimensioni non attuali, ma si parlava di un palazzo un po' più largo, un po' più ampio che poi dopo il terremoto, all'inizio del 1700, quindi dopo il terremoto incominciò la ricostruzione a essere realizzata dalla famiglia Nicastro, ma in modi diversi e si avvicina oggi nella configurazione che abbiamo oggi. Ricordo che questo palazzo rimase nella proprietà di Nicastro fino a 1840, quando divenne poi la Cancelleria di Ragusa Ibra e poi successivamente dopo 1840 fu trasformato in scuola, parliamo nel 1940, divenne scuola pubblica quando la Cancelleria di Ibra fu chiusa. Nel 1997 questo palazzo venne chiuso per cominciare ad avviare degli interventi di strutturazione che si sono avuti, se voi vedete questo palazzo ha subito due interventi di strutturazione, entrambi mirati a recupero minimale di una parte di ingresso, ma la maggior parte dell'intervento sono stati fatti strutturali, quindi sono stati fatti i cerchiature della copertura, la copertura… E' stata eliminata una sopravvazione realizzata post successiva. Quindi questo è lo stato attuale in cui partiamo. Il progetto prevede il recupero totale, questa volta del palazzo, recupereremo due piani dove per configurazione diversa dei due piani la destinazione sarà diversa, perché nel secondo piano vedrete sono stanzette piccole e quindi l'uso normale che si può avere è quello del co-walking, quindi sono delle stanze dove è possibile avviare degli studi, invece il terzo piano sono degli ambienti molto più grandi, più larghi, più collegabili tra di loro e quindi sono a tutti gli effetti sia delle piccole sale conferenze sia delle sale espositive. Se facciamo vedere le tavole grafiche del secondo piano e del terzo piano ci capiamo di cosa stiamo parlando. Questo è lo stato di fatto, lo stato in cui riversa l'immobile, quindi abbiamo degli ambienti dove ammoramenti diffusi ovunque, sia di intonaci che di murature, che di pavimentazione. Le scale ancora in pace, bene o male, sono presenti ma vanno totalmente recuperate. Andiamo nella distribuzione, andiamo avanti, andiamo avanti, sempre questo è lo stato di fatto dove facciamo vedere sempre il contesto in cui ci troviamo, quindi dove se vedete tutti… Il 2015, quindi oggi non sappiamo neanche come sono. Questa è la sezione dove si fanno vedere i vari piani prospetti e sezione. Voi in questo momento la parte accessibile è quella dove c'è il portongino, diciamo che quella parte è l'unica parte che abbiamo usato a neobarocco, due stanze. Andiamo a vedere invece il secondo piano, quello recuperato e vedete un po' quello che si vuole ottenere. Vedete tutta una sequenza di stanze utilizzabili appunto per il co-working con una parte a sinistra che in qualche modo può essere utilizzata anche per una forma di ristoro per chi studia all'interno o svolge attività all'interno del pazzo della concelleria. Andiamo al terzo piano invece, vedete gli ambienti sono molto più grandi e quindi fai uno zoom dove ci sono le sedie un po' ecco, vedete sono tutti collegati tra di loro con queste grandi aperture e quindi diciamo tutto, no no vai un po' più in alto, verso sinistra, ok. Vedete è uno spazio che può essere tranquillamente tutto collegato e reso unico quando serve. E invece andiamo a destra, andiamo a destra, ok. E invece, in basso, in basso, invece questa è un'altra area dove possono tranquillamente avere ulteriori 36 posti a sedere ma anche questi spazi possono essere tranquillamente utilizzati come spazi espositivi. All'interno di questo piano poi in alto a destra è prevista una piccola caffetteria, quindi anche all'occorrenza possono essere realizzati anche dei piccoli eventi con possibile anche utilizzo di un punto ristoro che in qualche modo può essere utilizzabile proprio per la gestione degli eventi. Vedete un intervento che nella sua semplicità ci permette di riutilizzare un palazzo importante per Ragusa perché è un palazzo che è anche qui sembrerebbe che ci sia la mano del Gaiardi, anche se non è certa l'attribuzione però dalla relazione che mi è stata fatta sembra che lo storico Massimo Gangi abbia assegnato anche a lui la paternità di questo monumento. Naturalmente l'intervento di recupero è non solo degli spazi interni ma anche degli spazi esterni, quindi anche dei prospetti. Quindi restituiamo alla città un palazzo che può essere utilizzato alla funzione di cultura che l'assessore Arezzo ha brillantemente esposto prima di me. Questa è Teleplay Up Laboratorio Analisi Battaglia Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa Telefono 0932 191 5082 Oltre 40 anni di esperienza e le attrezzature più moderne e precise per garantire risultati certi ed accurate in tempi brevi Il personale del laboratorio effettua prelievi a domicilio idonei a tutte le analisi cliniche specialistiche Il laboratorio Battaglia è tra i pochi in provincia ad eseguire specifici test sierologici più approfonditi e più sensibili autorizzati dal Ministero e dall'Assessorato alla Sanità per la lotta alla pandemia E il prezzo è politico perché è imposto dalla Regione per questi momenti difficili Laboratorio Analisi Battaglia Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa Telefono 0932 191 5082 Tanti auguri dal comune di Ragusa Ci aspetta un super Natale da festeggiare insieme con gli appuntamenti inseriti nel programma del Natale Barocco Leggi il programma e scegli la manifestazione che ti interessa Da Ragusa a Ibla Da Marina di Ragusa a Donna Fugata Tanti eventi per ritrovare finalmente l'atmosfera d'amore che si respira in occasione delle feste di Natale e di fine anno Avete appena ascoltato il servizio di Natale Barocco in cui si parla dell'amministrazione comunale e della sua intenzione di riqualificare il palazzo della cancelleria a Ragusa a Ibla che appunto anche questo rientra nel discorso Unesco è un bene importante L'ultima puntata ho dedicato appunto tutto il discorso sull'UNESCO affermando che l'inserimento nel patrimonio dell'umanità del centro storico di Ragusa è stata forse un'occasione mancata per il rilancio sotto un profilo prettamente culturale e turistico Ma vi è un altro punto che discorrendo così anche con gli amici è venuto a gala è quello che la città di Ragusa nel corso di molti anni ormai ha creato relazioni importanti attraverso il gemellaggio o i rapporti bilaterali con tante cittadine sparse nel mondo e che anche questo potrebbe essere un momento di sviluppo turistico e culturale e per parlare di gemellaggi ho chiamato in aiuto, in soccorso un uomo che è la memoria storica non solo di questa televisione ma anche proprio di alcuni gemellaggi perché vi ha partecipato e anzi è intervenuto in maniera molto fattiva ho chiamato quindi il nostro direttore Mario Papa non bisogna presentarlo assolutamente Novità assoluta Anche lui con il maglioncino blu questa sera siamo in coppia anche sotto questo profilo Mario, direttore uno dei gemellaggi più importanti è stato quello con l'antica Ragusa con Dubronik e quindi questo è stato fatto nel 91-92 mi parli un attimo di questo? Ecco hai detto bene la memoria storica perché chiaramente facendo questo lavoro ho partecipato a tantissime iniziative e ci siamo battuti allora ricordo per il gemellaggio con Dubronik ti devo dire che all'inizio questo gemellaggio nacque avendo partecipato ad alcune fiere turistiche e capitava sempre che c'era Ragusa Dubronik e Ragusa Ragusa che stavano a fianco molta gente diceva ma sono la stessa cosa, sono la stessa cosa conoscendo una dirigente dell'ufficio turistico si chiamava Miriana Darler nacque questa idea di fare un gemellaggio le due città, due città che si chiamano allo stesso modo praticamente è naturale che ci sia un gemellaggio ma c'era un blocco da parte della dirigenza della città di Dubronik perché loro si sentivano molto importanti e noi invece non eravamo nessuno quindi quando vedi se scusa Ragusa ma dov'è no? quindi era un problema molto serio poi in verità scoppiò la guerra quindi questa era prima della guerra nella ex Jugoslavia perché la Jugoslavia era un miscuglio di razze e di popoli che solo il colonnello Tito era riuscito a mettere insieme poi ci fu la deflagrazione ricordate Mostar, ricordate Sarajevo e Dubronik fu bombardata parecchie volte però c'era stata anche prima della guerra una delegazione di dirigenti della città di Dubronik qua a Ragusa c'era il sindaco Franco Antoci mi pare assessore bene culturale c'era Sasacintolo quindi loro visitarono la città videro il castello hanno avuto occasione non era quella che ora Ragusa devo dire era prima dell'UNESCO prima della piazza senza le macchine però siccome Dubronik è una città di una bellezza infatti quando io dissi ma come loro sono patrimonio dell'UNESCO noi ancora non eravamo patrimonio dell'UNESCO dovrebbe essere considerando il nome ed effettivamente andò avanti questo è il famoso Stradun la via principale di Dubronik e guardate che a Dubronik non entra una macchina neanche ma neanche con la forza neanche con la forza perché loro su questo sono molto molto attenti allora nacque il gemellaggio siamo andati diverse volte il santo produttore di Dubronik è San Biangio che si fa il 2 o il 3 di febbraio mi pare è una città molto simile a noi ma diciamo dal punto di vista forse della vecchia città perché poi siamo una città medievale noi siamo tutt'altra cosa però il gemellaggio era una cosa molto bella vennero qui abbiamo fatto tante iniziative e poi come succede da noi si è completamente perso senza mai portare avanti un minimo di iniziativa culturale ci fu devo dire l'allora assessore era Marfitano come si chiama va beh l'assessore Marfitano che è stato anche candidato al sindaco che ha tenuto rapporti con Dubronik per parecchio tempo poi devo dire che c'era una una dirigente si chiamava Burdoviz che morì e da allora in poi questo gemellaggio si è concluso però ne abbiamo avuti altri ecco un altro molto importante soprattutto perché secondo me quella è veramente stata un'occasione perduta ad oggi almeno è quello poi che si è avuto con Little Rock negli Stati Uniti dimmi qualcosa anche su questo io c'ero va bene perché t'ho chiamato io c'ero ma Little Rock ha avuto c'era più Antonio mio cognato che aveva seguito moltissimo questa iniziativa perché nacque da tutta una serie di incontri musicali c'era anche in mezzo quelli di Black Grand Price avevano ma a farlo nascere fu Giorgio Massari l'ex sindaco Giorgio Massari che aveva avuto in un incontro delle città gemellate le sistership aveva incontrato qualcuno di Little Rock ed era nata questa iniziativa di fare un gemellaggio ora cosa ci può legare con Little Rock veramente poco perché Little Rock è la capitale dell'Arkansou Arkansou non l'Arkansas perché uno dice Arkansas no Arkansou perché Little Rock sorge sull'Arkansas che è un fiume l'Arkansou e praticamente guardate in questa mappa il fiume scende fino al Mississippi no che quello che scende si vede quella striscia Memphis vedi la città Memphis c'è l'PCCP e invece l'Arkansou viene dalla parte a sinistra si incrociano ma la città di Little Rock è un porto fluviale di enorme interesse per la possibilità di trasportare le merci verso il nord est dell'America è un porto fluviale molto interessante la cosa bella fu che il gemellaggio che è stato fatto a tutti gli effetti allora c'era il sindaco Mimmo Arezzo andarono abbiamo portato dei cuochi ricordo Candiano lo chef stellato che è andato a Little Rock c'era ci andò Franco Poi Domani ci andò il mio cognato Antonio come giornalista ci furono tante anche Barbagallo andò a Little Rock la verità e si fecero tante iniziative ma la cosa più importante è che ci avevano regalato pensa un terreno di 10.000 metri quadrati sul porto fluviale dove praticamente avremmo potuto anzi avremmo dovuto perché questa era l'idea costruire un grande capannone hub dove noi potevamo far arrivare le nostre merci e distribuirle gratis gratis la terra naturalmente poi noi avremmo potuto fare delle spese e ci furono parecchie riunioni per vedere se era possibile farlo mi ricordo ecco Franco Poi Domani che poi era andato a vederlo proprio poi non si fece nulla e anche questo gemellaggio si è perso nel nulla ma quello che mi stai dicendo però è particolarmente grave perché nel momento in cui appunto vi è la possibilità di avere un terreno gratis in una località così strategica anche per avere un discorso di invio di merci di commercio eccetera e questo è andato completamente perduto quindi e qui le amministrazioni comunali che si sono via e via succedute e beh ma sai forse era l'America era così lontano ma è più grave bovè ora ne parliamo perché quelle appunto ce ne sono c'è anche quello con la provincia di Milano sì allora anche questo poi ci sono due piccole città in verità Mosta sì vabbè c'è Mosta che ho gemellaggio voluto da una persona che lavorava molto su Malta e poi c'è anche una città in Romania Raducovici Raducovici sì che era un fattore in 2007 non ho mai sentito parlare perché forse c'è stato solo questo fatto ma non abbiamo mai tratto nulla invece ci sono i gemellaggi con le province perché la provincia di Ragusa di allora è gemellata con Milano provincia Milano insomma non è vero che se voi ancora venite da Catania a un certo punto c'è un cartellone in cui c'è scritto benvenuti provincia di Ragusa che siamo gemellati con l'OAS e con Milano il gemellaggio di Milano venne perché a un certo punto ci fu un grande interesse anche mi ricordo che venne qua il sindaco di Milano Lamoratti l'assessore di Milano Cornello di Pasquale hanno avuto si vissero insieme e si vissero tante cose avanti si parlava di Expo allora si parlava di Expo del 2015 si parlava e anche con la provincia di Milano avevamo messo su tante tante cose che poi però praticamente come al solito finirono e con Bovet invece vedi con Bovet ecco Milano il Duomo con Bovet invece la cosa era particolarmente seria perché questo gemellaggio delle province nasce dal gemellaggio della città di Chiaramonte Gulfi con la città di Clermont all'Oise nell'Oise e Bovet è la capitale della provincia dell'Oise queste sono le immagini del momento della firma di questo gemellaggio questa è la sala del consiglio della provincia di Bovet e c'era un'ampia delegazione se vedete alla sinistra ci sono io c'è Giancarlo Cugnata c'è Gino Cicciarella Tano Rabbito non so se li riuscite a vedere questi sono e fu una manifestazione particolarmente importante perché loro tenevano molto a questo gemellaggio sia per quanto riguardava Chiaramonte perché Chiaramonte con Clermont il gemellaggio è continuato e continua fino a oggi ora l'ultima diciamo il problema del Covid ma fino a un paio di anni fa mi ricordo dei ragazzi che venivano qua le bande che suonavano i francesi che venivano le famiglie sono molto amiche ci sono fidanzamenti che durano la vita e poi il senatore Vandome che era il sindaco di Bovet all'inizio poi diventò senatore consigliere provinciale è stato da noi tante volte in studio per parlare proprio di questo gemellaggio ma qual era la cosa importante che non abbiamo saputo sfruttare Bovet aveva un aeroporto un aeroporto piccolo come quello di Comiso un aeroporto abbastanza che aveva 2000 metri di pista e aveva invece che una costruzione per fare gli uffici aveva un pallone quindi tutto questo aeroporto era un pallone tensostatico con dentro gli uffici i cecchini e qua era un piccolissimo aeroporto addirittura sono venuti più volte sono venuti più volte qui a parlare con la provincia per poter iniziare questo rapporto fra Bovet e l'aeroporto di Comiso soltanto che Bovet camminava e noi invece eravamo completamente a zero e per concludere per concludere dirò che oggi in questo momento Bovet è l'aeroporto ufficiale della Ryanair su Parigi infatti se tu vai a Parigi con la Ryanair vai a Bovet fai Parigi Bovet fai 5 milioni di passeggeri ed è un aeroporto importantissimo ed è partito da che cosa da una pista di 2000 metri e un pallone tensostatico noi non l'abbiamo saputo fare perché avremmo potuto acchiappare la Ryanair a fare questo ti volevo chiedere invece un'ultima cosa su per quanto riguarda i rapporti bilaterali c'è quello con Turzi allora questa è un'altra cosa devo dire questo fu un grande lavoro che aveva fatto Stefania Garrone Stefania Garrone aveva addirittura aveva organizzato insieme alla provincia anche la partecipazione ad una fiera e Turzi si è venuto qua il presidente della provincia è venuto anche ospite da noi in studio era un lavoro che si poteva fare anche con gli aeroporti con le merci perché loro erano molto interessati ai nostri prodotti però sai quando a un certo punto si entra nel vivo delle nostre cose purtroppo non riusciamo poi a concludere quindi davvero è una serie di occasioni perdute e quindi rientriamo in quel discorso di occasioni perdute che avevamo visto anche come patrimonio dell'UNESCO queste sono e sono molteplici perché abbiamo fatto una lunga carrellata su varie cittadine che sono gemellate con se avessimo saputo sfruttarle probabilmente allora però io ti chiedo a questo punto questo è lo stato dell'arte ed è uno stato deficitario perché evidentemente le amministrazioni comunali gli uffici eccetera non hanno saputo appunto cogliere le grandi possibilità di rilancio di turismo di commercio che queste gemellaggi portano con sé ma a oggi secondo te direttore qual è il meccanismo allora da mettere in atto per rilanciare tutto questo guarda la prima cosa che bisognerebbe fare è vedere se questi gemellaggi hanno un senso anche dall'altra parte perché è probabile che se li siano dimenticati anche loro cioè è probabile che ci sia io ricordo per esempio con Dubrovini che c'era uno scambio anche culturale loro hanno una straordinaria stagione culturale nel palazzo comunale fanno un festival musicale di livello altissimo si cercava di fare delle iniziative ora bisogna dire se loro ci sono ancora se nell'Arcanzo sanno cos'è Ragusa dove è Ragusa si vorrebbe ripartire a fare non oggi col covid ma sarebbe interessante ma quindi quello che manca è appunto una figura all'interno dell'amministrazione comunale che riprenda i rapporti e appunto dia slancio a queste situazioni guarda ecco perché è carente l'amministrazione in questo caso molte città inseriscono nella voce assessore alla cultura assessore al turismo anche assessore ai gemellaggi perché noi abbiamo la commissione all'interno del comune noi invece abbiamo l'assessore ai sollazzi non si offenda quando glielo dico perché per loro è molto più importante ecco fare le feste fare le cose che poi hanno un riscontro immediato con la gente piuttosto che pensare a degli sviluppi perché se fossimo stati gemellati veri con l'Arcanzo ma sarebbe stata una linea come è stato con fra Chiaramonte e sono piccolissime città pensate cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata una linea diretta turistica fra l'Arcanzo e noi se si fosse voluto fare il turismo sulle due città che si chiamano Ragusa facendo i voli fra Dubrovini e Checomiso dai quindi un panorama decisamente sconfortante sconsolante è l'unico auspicio che possiamo trarre è appunto quello che l'amministrazione comunale o le prossime che ci saranno abbiano la capacità di individuare anche questo come strumento di rilancio economico e turistico ringrazio il nostro direttore per questo sforzo di memoria che ha dovuto fare per ritornare un attimo indietro nel tempo ma era una cosa piacevoli e quindi lo ha fatto con piacere grazie alla prossima puntata apriamo la pagina della cronaca di questa sera con una notizia relativa a un aggiornamento sull'esplosione di Ravanusa ricorderete lo scorso sabato l'esplosione che ha causato la morte di 7 persone oltre 150 sfollati la situazione è sicuramente estremamente delicata allo stato attuale sono al lavoro o pienamente al lavoro gli uomini del gruppo operativo speciale dei vigili del fuoco da questa mattina per ripristinare la viabilità nell'area interessata dall'esplosione un lavoro fondamentale naturalmente che prosegue anche la sera con l'illuminazione artificiale per agevolare i sopralluoghi tecnici disposti dalla procura di Agrigento e previsti in programma per i prossimi giorni abbiamo detto oltre 150 gli sfollati situazione estremamente grave e delicata nelle ultime ore sono stati anche rinvenuti gli ultimi due corpi si tratta di padre e figlio di 55 e 31 anni per cui al dramma si aggiungono anche altre due vittime allo stato attuale a quel che è certo che le indagini sono in corso per far piena luce sulla vicenda è stata aperta un'indagine per disastro e omicidio colposo nel pomeriggio di oggi a Modica un artigiano di 40 anni è stato colto da un malore da forti dolori allo stomaco si è accasciato al suolo dopo aver effettuato dei lavori di riparazione questo poi si è si è subito recata sul posto l'ambulanza ai sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrerlo in loco e a trasportarlo nell'immediato a Catania dove l'uomo si trova allo stato attuale ricoverato in gravi condizioni allo stato attuale pare che l'uomo sia stato colpito da lacerazioni allo stomaco probabilmente dopo aver bevuto una bevanda sono in corso naturalmente anche in questo caso le indagini per far piena luce sulla vicenda e ricostruire l'accaduto adesso i numeri del contagio in provincia avete sentito si è parlato di covid poc'anzi nel corso del telegiornale il premier Mario Draghi adesso però ci concentriamo in conclusione sulla nostra provincia provincia di Ragusa dove nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 21 486 invece i positivi complessivi al covid 19 un leggero aumento rispetto alla giornata di ieri in cui i complessivi erano 482 situazioni come diciamo ormai negli ultimi giorni sicuramente da monitorare a leggeri aumenti seguono sempre leggeri cali per una situazione non estremamente chiara quel che c'è che però la situazione va monitorata non siamo assolutamente fuori pericolo siamo in una situazione naturalmente migliore rispetto all'anno scorso merito dei vaccini e del lavoro che è stato fatto dalla comunità scientifica e da tutta la popolazione che si è estremamente bene adeguata in grossa parte alle disposizioni anticontagio detto questo però bisogna stare attenti e continuare scrupolosamente a seguire le indicazioni anticontagio adesso i numeri relativi ai ricoveri sono 23 tutti al Giovanni Paolo II di Ragusa 15 nel reparto di malattie infettive 8 in area grigia provincia di Ragusa il comune di Ragusa come sapete risulta sempre essere il comune della provincia con il maggior numero di positivi conta infatti 170 soggetti in isolamento domiciliare segue Modica con 80 ed è tutto per la pagina della cronaca di questa sera andiamo avanti con il telegiornale chiudiamo l'indice con un servizio che riguarda l'agricoltura e l'ambiente però ecco torniamo per un attimo alla questione dell'aeroporto di Catania una struttura che per noi è essenziale e basilare va bene perché l'aeroporto di Catania come per quelli di Palermo ci permette di volare e di andare al di là della nostra isola quindi il fatto di essere insulari è un limite va bene sarà bello per tante cose ma è un limite per tante altre cose è impensabile che ci sia il rischio di restare praticamente chiusi per parecchio tempo a causa di problemi che sono naturalmente imponderabili non è certamente colpa di nessuno ma bisognerebbe trovare il metodo in qualche modo per risolvere il problema che fa ci tappiamo l'Etna certamente no ma capite che per esempio la situazione di Comiso che invece è drammatica perché Comiso purtroppo non ha soldi non riesce a sbarcare il Lunario deve dare soldi all'aeroporto di Catania a non finire però vuol dire che fra un po' o viene completamente fagocitato da Catania che in questo modo comunque gli piace questa situazione oppure bisognerebbe trovare un sistema per cui Catania Comiso sia più in grado di sopperire a queste necessità perché va bene la pista ma il piazzale è piccolo quindi dovremmo pensare ad allargare il piazzale e a far sì che ci siano 8, 9, 10 15 aerei quando invece con 5 già si riempie quindi ieri sera l'ultimo volo aveva riempito il piazzale bisogna pensarci perché ecco l'Etna non si può grazie a Dio non fa grandi guai ma quando spira il vento in un certo modo la situazione è difficilissima chiudiamo dicevo parlando di agricoltura con una rubrica a livello nazionale ci sono delle novità in vari settori anche del caffè per dire e questo è l'ultimo servizio di oggi grazie ci vediamo con le prossime edizioni ciao a tutti in questo numero di AgriFood Magazine oleoturismo nuova frontiera del turismo enogastronomico raddoppia il prezzo del caffè in un anno viticoltura con Life Green Grapes 50 fitofarmaci in meno Italia al terzo posto per il costo della terra in Europa l'oleoturismo è la nuova frontiera del turismo enogastronomico un volano che può contribuire a far decollare il settore i numeri della manifestazione frantoi aperti lo confermano grazie ai tanti eventi culturali degustazioni racconti gita in bicicletta e ai laboratori che hanno avuto luogo in un mese e mezzo in Umbria sul decreto attuativo per le attività oleoturistiche è stata raggiunta un'intesa dalla conferenza Stato-Regioni il documento definisce gli standard minimi che tutti gli operatori devono soddisfare per l'esercizio delle attività oleoturistiche come l'apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni la dotazione di strumenti di prenotazione e la predisposizione di un sito web aziendale l'utilizzo di contenitori e strumenti idonei per le attività di degustazione dell'olio il rispetto delle normative di carattere igienico-sanitario la norma attuativa sull'olioturismo attraverso un'ottimizzazione delle produzioni e un consumo esperienziale può servire da slancio a un settore da tempo in sofferenza unita a nuove strategie di vendita e alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza per l'innovazione dei frantoi potrà portare valore aggiunto distribuito su tutto il territorio italiano vocato all'olivicoltura raddoppiato il prezzo del caffè in un anno a causa di problemi di produzione della pandemia e del caos nei trasporti maritimi la materia prima dell'espresso è sempre più costosa i chicchi di varietà arabica sono quasi raddoppiati di valore da inizio anno fino a raggiungere i livelli di prezzo che non si vedevano dal 2001 trend in rialzo anche nel 2022 le maggiori difficoltà si riscontrano in Brasile Vietnam ed Etiopia forte preoccupazione dei produttori di caffè preoccupati dal rischio di non poter far fronte alla richiesta della domanda in queste settimane che precedono il Natale quando si verifica il picco dei consumi i produttori faticano a trovare le navi per trasportare le merci verso i porti d'approdo compresa Trieste la piazza leader d'Europa a causa del cambiamento climatico si prevede che più del 50% dei terreni attualmente coltivabili a caffè non lo sarà più da qui al 2050 in quanto il caffè è molto sensibile al cambiamento climatico e la prima a subirne l'impatto sarà la qualità seguita dalla quantità una difesa fitosanitaria dei vigneti sostenibile che coniuga la riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci con il mantenimento della qualità e quantità delle produzioni mantenendo la biodiversità questo l'obiettivo del progetto Life Green Grapes ideato e guidato dal CREA viticoltura ed enologia in Italia vengono utilizzate annualmente oltre 120 milioni di chilogrammi di fitofarmaci di cui circa un quarto nel comparto viticolo i protocolli di gestione Green Grapes nei vigneti pilota hanno dimostrato che una riduzione fino al 50% dell'uso dei fitofarmaci lungo tutta la filiera produttiva è possibile sostenibile e in grado di fornire output qualitativi e quantitativi equivalenti rispetto a quelli ottenuti mediante la normale gestione integrata o biologica aziendale sono stati proposti alle aziende viticole metodi di protezione attenti all'impatto ambientale ponendo il sistema vigneto in condizioni di resistere agli attacchi dei patogeni è stata valutata l'efficacia di protocolli di gestione della difesa delle piante riducendo le quantità di fitofarmaci attraverso l'impiego combinato di modelli previsionali induttori di resistenza e tecniche agronomiche di gestione del suolo gli obiettivi produttivi qualitativi e ambientali sono stati perseguiti attraverso la messa a punto di tecniche di gestione ad iniziare dalla produzione vivaistica dove sono stati utilizzati vari microorganismi antagonisti dei patogeni Italia al terzo posto per il costo della terra in Europa davanti al bel paese Olanda e Lussemburgo secondo l'ultimo studio Eurostat la terra arabile in Italia è tra le più care d'Europa con la Liguria che si classifica come la regione europea con i prezzi più alti per un importo medio di 108.000 euro all'ettaro in Italia il prezzo medio della terra arabile è di 40.153 euro all'ettaro con valori che variano dai 17.571 euro della Sardegna ai 42.656 della Toscana fino al record Ligure il valore nazionale spiega la Col di Retti risulta essere pari a più di tre volte quello medio della Spagna 17.744 euro quasi sette volte quello della Francia di 6.060 euro e una volta e mezzo quello della Gran Bretagna di 25.732 euro costi che rappresentano il principale ostacolo all'ingresso dei giovani in agricoltura se si considera che la dimensione media di un'impresa agricola italiana è di circa 8 ettari il prezzo di ingresso per un giovane agricoltore rischia di diventare proibitivo e ciò rappresenta un grave problema soprattutto in questo momento che la voglia di campagna è ai massimi storici questo è il teleplay app i nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa è la storia delle nostre famiglie è la storia della nostra terra la Sicilia